ciao bellezza e ben ritrovati sul mio canale ebbene si è un po che non ci vediamo ultimamente che non ho voglia di caricarvi ma ho già spiegato lavoro di più sull'altro canale però ci sono anche qui da voi che volevo dirvi oggi facciamo che ogni tanto sapete che vi faccio vedere un zona la spesa dati quota ebbene sì quando faccio un carico tra virgolette che non è che ho svaliggiato tutto il negozio quando compro più cose diciamo anche cose che servono per la casa perché in generale sono tutte le cose per casa roba di make up non ho comprato essendo come marito non si può ecco e poi lui non ha pazienza io per il make up devo fare da sola shopping ecco allora sapete che vi faccio vedere ebbene sì oggi sono truccata mi sono truccata oggi non è che ho fatto un trucco troppo carico cioè nel senso un trucco da giorno semplice per dirvi ho usato la palette di catrice questa qua la spices insieme con la gold roses di diego della palla di che cacchio dico di mesauda perché mi andava così è molto bella questa qua di mesauda ma anche la spices di catrice vi piacciono i colori questi qua estivi pescato il salmonato queste colori qua ve le consiglio queste due palette se mi vedete un po che faccio fatica a parlare che ciò delle palpitazioni una tachicardia una specie di tachicardia che mi dura da stamattina e quindi faccio un po fatica a parlare ok cosa indosso sulle labbra sulle labbra indosso ve l'ho già fatto vedere e ve le ho anche consigliati sti rossetti vi ho già detto quando erano usciti che io mi sono pentita che non ho presi di più magari le troverò ancora sul sito della sephora sono questi rossettini che ne fecero uscire loro che si chiamano lip stories me si chiama slash hashtag lip stories cavolo non mi veniva il il nome e questo si chiama take bite e numero 35 fa parte dei matt ed è un rossetto stupendo perché a me piace io ho qualcosa di simile dalla mac 1 che si assomiglia un po già detto quindi un rossetto a lunga durata dura e se le trovate vi giuro che questo qua io lo posso mettere o anche già detto quando l'ho recensito che lo metto a pari con quello di mac quindi alla stessa durata di quello di mac ok cominciamo a svuotare la nostra spesa che cosa ho preso ho preso la carta igienica madonna sia un pacchettone cioè un gigante e questo qua la carta cala soft and roll 24 rotoli con profumo alla cammila con tre veli soffici e resistenti e la confezione maxi scorta e questo qua credo che l'abbiamo pagato intorno al 5 euro credo 4 90 ora ve lo dico perché sono dotata di scontrino fino non l'ho non l'ho buttato via ora ve lo dico si 4 99 poi ho preso il fatto la carta assorbente quella asciugatutto a tripla assorbenza express perché questo qua mi va perché è idoneo anche per i contatti con gli alimenti cioè se per caso dovete fare il fritto io di certe volte non compro sempre la carta apposta per il fritto ma uso anche questo tipo qua di carta quindi questa qui della loro linea acqua e questo l'abbiamo pagato 1 euro 39 quindi è buono come prezzo e per fare l'un plan ho preso anche il comprami sempre la bobina mille usi hashtag 600 strapi garantiti questa qua mi sa che questa era l'offerta se non ricordo male la bobina si 349 che di solito sta intorno ai 45 euro più o meno così e poi mi sono preso un liso form questo è zero calcare desincrostante che elimina il germe agisce fin sotto l'acqua al profumo di line manca fatto caso a che tipo di profumo è perché tanto non mi interessa al profumo che stava 9 99 centesimi macerati tutti di tutti i tipi poi per lavare in bagno queste candicina gel igiene sicura non grafia a un litro e mezzo di prodotto sta un euro è un euro qualcosa ma non mi ricordo ragazzi aspettate un euro 29 perché questo qua io non lo metto nel spruzzino ma lo diluisco con quell'acqua e non da un litro e mezzo ne faccio 56 flaconi se non di più e pulisco in bane o i sanitari dopodiché stavano in offerta il bano schimo a neutro made queste mele elixir profumo di gardenia bianca con estratto di miele a 99 centesimi e poi mi sono presi questi qua perché anno scorso le avevo beccati in estate scorso anzi alla fine dell'estate che io non le avevo viste al banco adesso le ho viste qua acqua di cocco con estratto di cocco sono buonissimi guarda vi dico un profumo demenziale e questi qua erano 99 99 centesimi poi sempre al banco dove stavano le offerte abbiamo preso un coluttore della benefit total protection coluttore delicato senza alcol che questo qua aiuta a rinforzare le gengive è buono perché ne ha 500 ml sono 400 più 100 ml che te le regala praticamente la casa quindi e mezzo litro di coluttore ai voglia siamo in due quindi va bene non è che lo beviamo però serve poi per mio marito sempre a 99 centesimi ho preso questo qua neutro made absolute clean che lava il corpo detergente i capelli purifica il viso sensazione di pelle pulita è un doccia shampoo capelli corpo e viso questo poi l'ho preso che quando si va in vacanza al limite ne prendiamo e lo prendo lo faccio lavare col suo prodotto e questo qua è della bengal è un insetticida aerosol per uso domestico grazie per zanzare mosche altre cavolate di insatti che mi entrano perché ho il giardino quale anche se ho le zanzarie retto quanto qualche insetto benedetto entra e questo mi sa che stava a un euro 75 quindi non costava tanto perciò sapete ve l'ho già fatto vedere sempre questo qua che non ha cambiato il prezzo sui 70 centesimi 85 centesimi il additivo della oxy plus questo proprio detto che fa sul bianco sul e la cosa bella è che si può utilizzare da 30 gradi quindi se l'acqua non è tanto calda se fate il lavaggio da 30 gradi questo qua lo già potete mettere come additivo sbiancante perché sbianchisce il bucato e io sinceramente contro le macchie che quelle dal caffè dal vino che si fanno sulle tovalle sui tovalioli perché noi usiamo poco i tovalioli di carta utilizziamo i tovalioli di pezza di stoffa diciamo e quindi quelli si macchiano metti questo e raramente oppure strofinacci perché strofinacci sapete che pulisce le mani frutta verdura di varie cose che usi in cucina si possono macchiare e per non rovinare con candeggina perché a volte si sbianchiscono i colori nostro finale sono anche colorati cose mettono additivo se per caso c'è qualche macchina più ostinata magari mettono additivo sulla macchia oppure al limite arrivo alla candeggina poi come ben sapete e conoscete che noi utilizziamo abbiamo preso questi qua a 99 centesimo mio baby salviette umidificante per bambini con aloe vera extra soft noi le utilizziamo in bagno ho già detto non è che non utilizziamo il binello utilizziamo però per a volte per vari motivi utilizziamo anche questo poi ho ripreso il mio detergente intimo che mi piace che ho comprato in bagno un dispenser apposta quindi ci metto questo qua alla pompetta quindi lo faccio tipo come ricarica perché ragazzi sono 500 ml di prodotto mezzo mezzo litro di prodotto a 99 centesimi ed è un detergente guardatelo come molto non è proprio acqua ci basta una goccia io mi sono presi due flaconi di qua vado per tutto l'estate è un detergente intimo a malva e camomilla ed è molto delicato e vi dico che questo qua indicato io lo potrei usare anche per le bambine tipo quelle da 7 8 anni che cominciano a farsi il bidet e noi lo utilizziamo dico nome perché è unico prodotto che si usa al bidet sia io che mio marito non è che li compro esistono anche detensivi e detergenti intimi apposta per gli omni ma non ha senso compro 100 mila cose poi abbiamo preso anche uno di questo qua di salviete con aloe vitamina e sempre a 99 centesimi mille usi non le ho mai viste le abbiamo presa bene in casa magari servono quando si va da qualche parte poi per mio marito preso questo shampoo dell'antica elboristeria shampoo addolcente a camomilla per i capelli delicati vediamo un po se le va questo qui perché ha un problema di cute tipo seboroica poi mi servivano ed odoranti sotto a scelari però ragazzi vi dico che quello della nivea arrivato a 3 euro qualcosa io lo prendo quando c'è un'offerta mi faccio la scorta stavolta stranamente che l'alicia costa ho trovato l'alicia in offerta questi qua questo è puro talco siamo un po come odora buono sono questi con la palina diciamo mi sono preso tutte le tre profumazioni che le trovate a banco e ora vi dico quanto quanto costava anche le salviete dico bugie costavano 70 centesimi e 90 di quando dico proprio una cretinata e questo non lo so aspettate che ve lo dico ecco costavano un euro 68 ciascuno quindi ho preso questo qua a talco ho preso questo qua l'originale e poi c'era anche questo con echinacea e vitamina e questo qui questo l'ho già provato una volta in spray spray diciamo e mi è andato bene mi sono trovata bene mi è piaciuto sapete che io sono il tipo che uso due tre tipi che in genere quasi ma 80 85 per cento utilizzo quello della nivea ma quando non lo trovo e si deve stare un po più proprio attenti anche alle spese e ho trovato questo qua so che l'alicia è molto buono allora ho preso l'alicia questo è garantito 48 ore ora non è che stai 40 questo 48 questo 48 e questo stranamente solo 24 buono so quale sia la differenza però vabbè ragazzo non è che uno d'estate si lava io mi faccio anche 33 con l'umidità che c'è qua a genova mi faccio anche 32 al giorno perciò hai voglia te lo rimetti poi per le mani ho trovato un'offerta molto buona per il sapone per le mani schiuma di champagne ora aspettate se lo trovo allora spuma di champagne di si di champagne a sapone per le mani 2 40 loro dicevano con la ricarica di carica non dovrebbe averle dispenser di solito quando compro pacchi così trovo soltanto uno che al dispenser e l'altro tra il tappo normale queste erano così vabbè io ho preso c'erano varie profumazioni c'erano quattro tipi mi sa o tre quattro cinque non mi ricordo però io ho preso questo qua alla ametista e orchidea sapone crema rigenerante a 400 ml di prodotto quindi sono 800 ml due flaconi a 2 40 quindi uno lo paghi 1 euro 20 per 1 euro 20 per 400 ml di prodotto non è tanto poi la casa è conosciuta e buona quindi è un buon risparmio qui se usate sapone per le mani penso che tutta la gente lo usa poi mi servivano questi qua i panni in microfibra io questi li uso per la cucina ho preso questi qua della apex un po carucci sinceramente 2 99 sono cinque panni se cinque panni cosa faccio con questi questi quale usa in cucina per pulire il lavallo per asciugare i piatti no c'è un'altra cosa per pulire il tavolo varie cose servono e quindi me la sono presi e poi per ultimo per non dire che ho preso altri faccioletti perché qua e sempre devo averceli queste in borsa prestico prestico presi questi qua spi di chermi le usi rinfrescante questi qua sono molto buoni perché sono piccoli e stanno bene nelle borse d'estate ho preso due pacchetti questi costano 70 centesimi mi ero confusa questi qua poi ho preso uno igienizzante e poi igiene intima anti odore perché perché no io questi qua quando sono in giro le uso ma perché vai al bagno vabbè per igiene intima e poi per accontentarmi perché quando vado a tigota specialmente quello dove vado io fuori città enorme e si non non riesco a andarci al banco trucchi perché non si può con mio marito praticamente fa le ui così dice non hai abbastanza e quando dice la parola questa te ne metti da parte però passando dalla parte scherzi passando dalla parte dove ci sono le maschere mi sono preso perché avevo visto delle ragazze che parlavano bene di queste maschere che sono uscita adesso della garnier skin active vulcano mask è una maschera per riduzione minimizzare i pori spettato che maschera affina se non si chiama pori pori con roccia di origine vulcanica per pelle impure io veramente ho la pelle impura sì perché ve lo giro così meno comprese 2 99 centesimi ciascuna si sembra che non abbia tanto di prodotto però ne ha e quindi cosa c'è scritto applicare sulla pelle detersa e umida evitare la zona degli occhi e delle labbra lasciare agire per tre minuti quindi di sciacquare meno male questa qua solo tre minuti quindi non devo aspettare un'eternità vediamo com'è c'era anche quella per gli occhi però mi è sembrato un po quasi due euro vabbè se mai questi giorni andrò nel mio quartiere a fare un giro e per i fatti me così vedrò poi ho trovato questa che io non ho mai visto questo brand my mask trattamento di bellezza un palo che e poi mi ha stupito questo tipo di di trattamento è fatto così e prima bustina ragazze c'è scritto detox soft black mas con perline di carbone di coco per tutti i tipi di pelle dermo purificante emolliente con carbone vegetale da da cocco e burro di karité senza parabeni e poi questo è il primo star è il secondo step che la parte di sotto di qua è un siero post trattamento lenitivo emolliente anti arrossamento con acido e aluronico e fiori bianchi di gilio e margherita ora non saprei sì prima si usa la maschera infatti ci c'è detto così applicare la maschera sul viso e massaggiare delicatamente rompendo le perline di carbone allora ci deve avere delle perline lasciare agire per 10 minuti togliele con cotone inumidito con una spugnietta e sciacquare con acqua asciugare la pelle e applicare generosamente il siro post trattamento si consiglia il trattamento una volta alla settimana e questa è una novità perché io una cosa del genere non l'ho mai avuta ve lo faccio vedere è anche questa credo che questa asse 99 centesimo ve lo dico con sicurezza si 99 la stessa cosa anche la maschera volcano di ghani e niente questo tutto quello che ho acquisito fatto oggi e mi è partita la bellezza di 45 euro 38 per tre cavolate perché non è che sono tante c'è il dei client con offerte valde dal 15 al 30 di giugno dove vedete tutte le offerte e poi all'ingresso ho preso l'altro dei client con tutte le offerte di questo mese perché io non è un po che non ci andavo dall'attiguità e quindi l'ho preso ok niente se volete anche voi cosine e di risparmiare un po sulla vostra spesa vi consiglio di andare attiguità questo video mi ripeto magari non lo dico sempre però ogni volta va detto non è video sponsorizzato non mi paga nessuno anche se faccio vedere quello che compro e vi ho fatto vedere pure lo scontrino ok bellezze vi saluto ci vediamo sempre qui sul mio canale chi è per la prima volta faccia la iscrizione perché io ho sempre cose da farvi vedere anzi vi dovrei far vedere anche altre tre cosine così perché le ho presa al volo non sono comprate dall'attiguità ma io andrò in giro questi giorni per i negozi per vedere perché io le ho presi sul mercatino orionale c'è un signore che ha il suo banco di prodotti di cosmesi mi ha venduto questo prodotto della biopoint body care scrub corpo al sale marino con sale marino sabbia bianca alghe marine olio di moringa e olio di monoi e un fango un scrub che azione sfogliante tonificante energy energizante ragazzi c'è la bellezza di mezzo chilo di prodotto non esagio 500 ml biopoint un brand molto conosciuto vi faccio vedere il barattolo giusto per vedere politiche norme qua mi basta e mi avanza so che prodotti dalla biopoint sono buoni non vi dico quanto l'ho pagato perché costava però mi ha fatto il prezzo quindi qui sto zitta e io ve l'ho fatto vedere giusto per se vi interessa e poi un brand che io non l'ho mai visto non ci ho avuto manca tempo di andare a vederlo sul internet lo devo cercare perché mi sono affidata l'ho comprata l'ho comprato perché di solito i fanghi li uso quelli della geomar oppure quel della guam ma quel della guam sono venuti un po carucci o della cambia pelle cambia pelle non l'ho più trovato ultimamente non so che fine ha fatto sto brand però questi qua non li ho mai visti io non ho mai visto il brand non lo conosco si chiama terme romane credo che sia una casa molto buona perché anche come il pack del ora vi faccio vedere della scatola è un trattamento corpo c'è scritto body treatment fango impacco rasodante elasticisante terme romane complex con estratti dei chinacea e iridi iride e anche questo ragazza la bellezza di 500 ml di prodotto cioè ai voli acqua da farti sti impacchi guardate un po vi faccio vedere anche il barattolo io vi vi giuro non ho mai visto questo questo brand non la conoscono fu ma dal qui c'è l'acqua però mi ha detto signore che perché prodotti ragazzi sono intatti cioè non è questo è aperto perde vabbè però un profumo adesso mi sono accorta e mi sono anche macchiata mamma lieta brava tri e lo dico al mio amico perché un mio amico mamma mia odora devo fare sempre una cretinata o che non sia andato mio marito a toccare di sicuro perché lui fa queste cavolate di sicuro e quindi non ho mai visto perché questa casa perché lo vedo deve essere qualcosa antico lo vedo anche dal pack a questo disegno molto bello si qua c'era il prezzo ma vabbè l'ho tolto e e poi per ultimo si ho fatto un casotto qua aspettate che metto un tovaliolo che mi ha cascato un po di liquido perché mi ha detto che c'è un liquido sopra e non per ultimo se come sono sempre in ricerca di trovare prodottini ce l'ho qualcosa ma finisce perché ora mi sono impugnata di utilizzarlo tutto la l'anno sono quei prodotti quelle creme da giorno con protezione per l'inquinamento antiquinamento con protezione solare anche se ne ha un 15 dspf però che sono praticamente creati per proteggere la pelle perché mi riparto sempre ste macchiette che è anche una qui che grazie di opera adesso si stanno schiarendo perché sto utilizzando dei prodotti però devo stare sempre attenta a mettere questa protezione e allora il dermatologo mi ha consigliato di utilizzare tutto l'anno un filtro solare e per non mettermi la crema solare quella che si va al mare so che esistono i prodotti e lui aveva questo prodotto della olaz e ho visto che ultimamente prodotti della olaz sono venuti un po più buoni ma sta di fatto che io olaz mi ricordo che li ho usati tanti anni fa e mi andava bene sulla mia pelle questo è una lozione per le pelle da normale a miste da normale a grasse c'è scritto qua con fattore di protezione 15 è una lozione da giù